Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Chiara del canale Luigi Caulè Scusate, sono le mani sporche di Venna, ma sono a fare compiti fino adesso, sono morta praticamente E in questo video vi resensirò una blind bag dei My Little Pony Che mi ha regalato la mia cara cuginetta, che in questo video commenterà sicuramente E apriamola praticamente, andiamo un attimo la busta C'è Raidy, Vinky Pie e Rainbow Dash, no, oddio Rainbow Power e QTMark Magic, non lo so Qui è scritto all'interno un pony e card da collezione Qui l'amicizia magica My Little Pony E collezione per tutte e 24, ciascuno venduto separatamente Ok, sono 24 e per ieri abbiamo le avvertenze pericolose di soffogamento, contiene piccole parti Ehm, vabbè, insomma che non... Ah, il famosissimo bambino cipolla E' attuale di QTMark Magic con questa qua E vabbè, è stata così praticamente la scatola Qui è scritto QTMark Magic, la casa per cui ovviamente Qui www.mylitterpony.com E vabbè, dai scartiamola Ci riesco sicuramente Speriamo che non sia andorzione, speriamo che non sia andorzione Ho trovato Pinkie Pie Rainbow Power Pinkie Pie Rainbow Power, oddio, 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 bellissima Così me lo posso aggiungere al Twitter Rainbow Power, ma è bellissimo Grazie Rossella, grazie, ti voglio bene, grazie, grazie Ecco, questo è per Rossella, aspettate, eh Allora Questo è per la mia cuginetta Ecco Ecco, grazie Rosi, ti voglio bene Oddio, ma è bellissimo Oddio Pinkie Pie Rainbow Power che ha capelli mezzi blu Fucsia e gialli Eh, vabbè, fucsia blu e gialli è anche la coda E poi ha tutti i palloncini qui sul corpo Anche il QTMark E basta È bellissima, vediamo un po' la carta Sì Ma così è stuccoso Vabbè, questa è la carta Ecco, appunto, qua c'è l'immagine Pinkie Pie E vabbè, questa è la carta È bellissima, grazie Rosi Io desideravo tanto le Rainbow Power perché sono molto belle Infatti questa è bellissima Ne faccio un secondino alla girazione di com'è Via Ragazzi, allora, grazie mille Rossella Ti mando un bacione E concludo qua il video Aspettate Se volete la mia versione poi Concludo qua il video Ricordate, mettete like, commentate, iscrivetevi Ciao Grazie Rossellina Grazie mille